Incidente di caccia ieri pomeriggio nei boschi in Molisani. La vittima è un 69enne originario della provincia di Frosinone. Il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita nelle campagne di Morrone e del Sannio, non lontano da Providenti. L'uomo era un cacciatore e ha perso la vita a causa di due colpi di fucile che a quanto pare potrebbero essere partiti dalla sua stessa arma. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Larino, arrivati sul posto ieri pomeriggio insieme al 118 e a Vigili del Fuoco di Campobasso e Santa Croce di Magliano. Purtroppo per il 69enne non c'è stato nulla da fare, le ferite riportate gli sono state letali. A lanciare l'allarme sono stati gli amici del 69enne impegnati insieme a lui in una battuta di caccia al cinghiale. Il gruppo si era diviso ma il rumore dei colpi ha richiamato l'attenzione degli altri cacciatori. Scoperto il corpo, gli amici del 69enne hanno subito dato l'allarme.